Ciao a tutti, ciao a tutti, sono Montoneer, eccoci qua, eccoci qua per riese conto di quello che si è giocato. Quelle sei partite che si sono giocate alla fine. Che dire, che dire, che dire, che dire, che dire. C'è da dire una cosa, che partiamo dalla fine, che il Napoli, secondo me, mi devo un po' ricredere, è l'unica squadra che può dare fastidio veramente all'Inter. Perché se il Napoli, nella situazione in cui è, con gli infortunati, con la Coppa d'Africa, con il Covid, con i primavere in campo, con solo tre cambi a disposizione, stasera, dico, tiene testa la Juve e ci tiene testa anche bene. Questi, a ranghi completi, erano gli unici che davvero stavano attaccati all'Inter, secondo me. Un po' la sfiga, un po' la storia appunto solita che il buon Spallettone tra dicembre e gennaio perde solitamente punti e poi, casualmente, li dico con tutti i capitani e adesso anche in signa, se ne va, ma questo è un caso, dai, questa volta è un caso. Direi che ci stava nel senso, la Juve non ha rubato nulla, però, 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 direi che a livello di gioco sicuramente il Napoli ha giocato meglio, la Juve ha reagito, Chiesa, ragazzi, è il punto di forza di questa Juventus, è un dato di fatto, perché magari finora non ha, diciamo, dimostrato il suo vero valore quest'anno, forse, però Chiesa è Chiesa, cioè Chiesa per me, nella Juve adesso è il giocatore più forte. Mi sbaglierò, però, la vedo così. Comunque, Napoli come vantaggio con Mertens e poi dopo, nella ripresa, la Juve, appunto, trova il pari con Chiesa, sfruttando gli spazi che gli sono stati concessi dalla squadra partenopea, poi ci riprova il Napoli e Chiesa ne riesce comunque a chiudere ogni speranza, diciamo, di gol, ecco, della Juve. Poi ci riprova anche Dybala, Dybala che torna in campo un po' con la standing ovation del suo pubblico, scusate che mi sto uccidendo con il filo da solo, qua delle cuffie, e quindi, insomma, un risultato, diciamo così, giusto, però, che conferma che Napoli è una buona squadra. Napoli è una buona squadra, ragazzi, è una buona squadra in queste condizioni, figuratevi, appunto, a ciclo, a ciclo, cazzo sto dicendo, a ciclo, a rango completo. E niente, dai, cerchiamo di non dire più cazzate, sono Montonelli, iscrivetevi e trovate la campanellina, se non l'avete fatto ho notato che tantissimi di voi, più del 70%, sono non iscritti al canale e guardano i miei video. Non vi costa niente, è gratuito, mi sostenete e mi spronate a continuare, mi fa piacere, rispondo a tutti, commento a tutti, e se vi iscrivete, leggo il vostro nome, perché molti ce l'hanno nascosto, come ho detto nel video di ieri, vi cito nei prossimi video, quindi vi ringrazio, benvenuto, che sei iscritto, dai, vi fa anche piacere, quindi iscrivetevi. Tornando a noi, appunto, poi c'è stato un Milan-Roma-Piro-Tecnico, un'altra squadra che si conferma sicuramente superiore alla media, ed è il Milan che vince 3-1 con i gol di Giroud, Messias e Leao, Ibra sul finale sbaglia un rigore, direi che la partita non è mai stata in discussione, sì c'è un presunto fallo su Zagnolo, che io ovviamente non ho visto la moviola, ma da quello che ho visto in campo il Milan è nettamente superiore alla Roma e ha meritato, ha strameritato la vittoria. Poi Mourinho si lamenta degli arbitri quando perde, ma quando vince lui in maniere un po' strane non dice assolutamente niente. Ma non c'è problema, questo è classico, un po' come ho sempre detto, con tutto il rispetto e l'affetto per i romanisti, vi ricordo che sono 50% sangue romano, perché la mamma è di Roma, che quando vincete, sembrate che avete vinto il Mondiale, e quando perdete avete perso tutto, retrocediamo una merda. Questo io non l'ho mai capito dei romanisti, sono sincero. Dalle stelle alle stalle è troppo presto, quindi siete una squadra secondo me da Europa con Ferenze League, basta, se le vincete le perdete. Non è che se battete l'Inter e l'Atalanta siete la squadra più forte del mondo e se perdete contro il Milan o il Sassuolo dovete retrocedere, no. Questa è la dimensione della Roma attuale, secondo me. Non c'è niente di che da dire. Poi, oh, incazzatevi, dite quello che volete. Questo è quanto, poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, romanisti, sempre nel rispetto, mi raccomando. E poi c'è un Lazio-Empoli 3-3, pirotecico, bellissima partita, veramente bella, mi sono divertito tanto nel primo tempo con l'Empoli in vantaggio 2-1. Bella, bella, bella partita. Empoli che fa un 1-2 subito all'inizio, il gol su rigore del mio Bayrami a fantacalcio, grande, grande Bayrami. Tra l'altro, poi va appunto sul 2-1 con Zurkowski, immobile a corcia. E poi dopo, nella ripresa, c'è il pareggio di Milinkovic-Savic, ma, 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 di Francesco, riesce a riportare in vantaggio l'Empoli e andare sul 3-2. Ma poi dopo annullano un gol alla laste di Patrick del 3-3 e Vicario pare il rigore di immobile, ma al 93esimo Milinkovic-Savic secca Vicario, ovviamente, metaforicamente, e scoppia il 3-3. Succede il 3-3. Bella, bella partita. Un Empoli che, ragazzi, mi piace da matti, ricorda l'Atalanta di Tempi d'Oro, mi piace il cane che è russa, è sempre lei, non ci posso fare assolutamente niente, non gli posso tappare il naso, quindi ogni tanto vi tocca sentirlo. Un bellissimo Empoli che veramente mi piace, Andrea Zoli, ottimo allenatore. Questa squadra, ragazzi, con le grandi, quest'anno ha fatto partitoni su partitoni e quindi merita, secondo me, la posizione in classifica che ha. Sassuolo Genoa, un tiro al bersaglio del Sassuolo, una roba tipo tra tiri nello specchio e tiri fuori, 30 tiri in porta del Sassuolo, ma non riesce a superare il muro pullman di Sercenco e del Genoa che continua a non vincere, ma continua anche a fare un tiro e un gol. Cioè, è una roba assurda. Comunque destro ha fatto un gollone, un gollone della Madonna, un bellissimo gol. E niente, che vi devo dire? È culo, è anche culo. Cioè, non me ne vogliano i Genoani, ma oggi ha avuto parecchio culo, veramente. E non solo oggi, perché anche con il Genoa, anche con l'Atalanta volevo dire, non è che... Comunque, questo Genoa che non tira in porta, ma non perde, quindi bravo Sierva, così ti devo dire. Tra l'altro è tornato negativo proprio oggi, oggi o ieri, dal Covid. E quindi Sassuolo Genoa, un 1-1, l'Ellas batte lo Spezia in condizioni, anche l'Ellas è assurda, gli mancava più di 6, 7, 8, 9, 10 giocatori, tra staff e giocatori, non si è capito. Però l'Ellas può giocare, altre squadre che ne mancano 3-4, non giocano. Adesso speriamo che con questo nuovo protocollo che vi ho parlato nel video, vi lascio la scheda qui sopra, nel video di stanotte, sono stato uno dei primi a leggervelo, vediamo cosa cambierà. Speriamo che abbiamo trovato la quadra del cerchio, il cerchio della quadra. Vedremo, vedremo. Appunto l'Ellas che vince 2-1 con lo Spezia, e che dire, che dire, il Cagliari che spugna il campo della Sampdoria, anche qui un risultato un po' sorpresa, Cagliari che non vinceva appunto dalla partita di andata con la Sampdoria della Serie, il Cagliari è sempre contento e felice di giocare con la Sampdoria. E niente, mercoledì ci sarà un incontro tra Governo, Regioni e Lega sulla Serie A per cercare di trovare un modo di far decidere, praticamente non alle ASL, ma alla Lega e le Regioni e si cercano di accordare un po' tutti quanti. Si spera che si troverà questo accordo e appunto la Lega di Serie A che dichiara fortemente le decisioni dell'ASL sono illegittime e con un nuovo protocollo non devono più intervenire. Quindi qui è a muro contro muro, staremo a vedere come va a finire. Io vi ricordo di attivare la campanellina, iscrivervi, mettere mi piace, commentare, condividere. Vi abbraccio forte, ancora buona Befana, mi raccomando, vostro Montanelli, ci vediamo nel weekend o comunque nei prossimi giorni se succede qualcosa di botti di calciomercato sicuramente farò il video, se non succede nulla, nulla. E Piontech è ufficiale a Fiorentina, come ieri vi avevo anticipato appunto. Quindi dai, visto che vi dico le cose un po' prima degli altri, cercate di seguirmi un po' di più. Ciao ragazzi, un abbraccio, buonanotte, nel vostro Montanelli. Ciao ciao. Buonanotte, 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 buonanotte,